Ho triangolato la posizione e ora devo andare... vado un po' avanti con le missioni, sennò non ci si leva le gambe. Però qui c'è uno still, aspetta un attimo, ho ricercato. Ho un sacco di soldi, se lo ammazzo. Ah, qui mi dà anche debubi di zucca senza corolla, da solo al fiore con una puntina. Oh, macciamissili? Macciamissili uscirò sulla vicerla, comodo. Però ci devi mettere almeno un potenziamento per ridurre il tempo di ricaria, perché sennò... Ho cambiato la vicerla, capito? E non c'è il rano. Vabbè vado avanti così. Non devo non uccidere i nemici che si incontrano per ora? Ma insomma, dipende. C'ho sempre da ritrovare il camminatore. Mi servirebbe per lo scanner di conflitto, però ci vogliono quattro... come si dice? Quattro pallini di ricercato, via. È che mi ci avvicini molto volentieri adesso. Solo sulle stelle. Viaggia verso Artemis. Dove suonare un orogrammari? Eh, devi trovare le crossfit. La torre è quella che ti permette di parlare con Artemis. Sono criminali reglevati. Pientare il cazzo lì. E poi lo sa più terribile è il costo del carburante delle fregate. Lì è veramente eccessivo. Ma cosa serviva? L'idrogeno? L'idrogeno è trizio. Ah, trizio, vabbè, trizio lo pare agile. Ma trizio si compra anche. E' l'idrogeno che è... E' il più raro. E' l'idrogeno, ti ho detto, deve andare su qualche pianeta vuoto, morto, se li trovi bene i depositi perché te li segna per terra. Lo scanner li vedi. Beh, nemmeno mai l'ho visto comunque tri da ogni pianeta, depositi di irogeno. Sì, ma ce n'è pochi, capito? Eh, devi un po' girare, sì. Dovete trovare quei cristalli velli grossi. Cos'è questo affare? Ma... è davanti... ti sa che non arrivo. Sette milioni e due, eh? E' ciccia. L'ha apparsa una sfera con una specie di spaghetto dentro che gira. Ah, sono quelli affari rari che non ho capito bene come sfruttarli ancora. C'è, anche a me dice... vai avanti, non ti preoccupa, va tutto bene. Può anche distrugge, però... No, ma ne vale me la pena di buona. C'è, poi non so cosa ci sia dentro, eh, per l'amore di Dio. Il virus. Il coronavirus. Ovid! Ah, esatto. L'hanno spedito lì. Vediamo, è che hai visto c'è da dirci, via. Viaggio. è vero. c'è un'altra immagine e potenzialità di questo gioco applicato magari al mondo di cyberpunk 2077 sogna sogna guarda guarda mi serve anche il cobalto cane dell'eva che puoi interagire con tutte le persone per le omagini eh rialberebbe arriverà arriverà rialberà ma tutto spiano oh oh il di idrogeno è una piazzata build-up pochissimo oh vedi microprocessore raffinatore pesante grande ma ricercato cosa c'è fai in quella roba cosa c'è fai in quella roba lì posso creare microprocessore ora e lui rendi qui c'è un da affanata quest oddio santo lo sapevo ora vado in modo di giugge perché ho trovato i cosi gli albumi esplori la caverna ti incerpi dentro e così la facciamo burbi guarda è tutto pieno da che lavori tre mezze quest completate finchè ho finito questa shane devo rimanere su questo sistema davvero eh chiedi il blocco eh sennò perchè non posso spostarli un po' il gioco comunque è influenzato anche dai teletrasporti se ti allontani troppi anni luce dalla missione non te la segnala più eh si lo fa no lo sai che ce l'avevo qui i volbi di zucca e sono andati a riprenderli eh va dire fincazzi fincazzi e poi basta affrontarla con calma ah è che sono duro come i picconi è diverso eh c'è il mistile batteria scarico ma guarda davanti c'è nel liddi io po' no di idrogeno guarda ma ha messo davanti tutto quello che mi serve hai visto? è andata hai capito il discorso c'è tutto l'algoritmo che dice ma gli serve questo ora lo faccio soffrire un po' e poi lo faccio trovare tutto insieme eh eh che amico effetto di appagamento di giramento di... eh fa incazzare o riaprono i cinema non c'è un film decente al cinema ma non si vergognano no no perchè tanto la gente va a vede film del caso pur di andare al cinema ma diubano ma sfrutta la palla al balzo visto che di aprire il cinema dopo un anno di film mandaci un film serie A mandaci Top Gun 2 mandaci niente ma che quindi è un film serie A Top Gun 2 scherzi? via ma adesso parliamo? si ma per me il cinema è arte non è filmetti top gun è arte si ma anche i filmetti di me ma che domani è un filmetto? ma scherzi? è iconografico si arriviamo all'ameriani ciù 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 con l'aeroplanini guarda come siamo grossi ci sta il pisello più lungo dell'arte no il suo piede film è la storia d'amore che c'è nel mezzo il discorso che muore il suo amico e lui si sente in colpa ma dai ma non c'è il mio problema la storia lì la puoi ricreare anche nella vita vera gli si ammazza la mia qualcuno il tramonto anni 80 tutto giallo capito? le musiche anni 90 80 90 vorrebbe essere film così oggi oh un po' di benzina la sono riuscita a fa' nooo forza la si ossicità estremo a 92 bene ok ci sta bene mmm proprio e piove anche non so cosa possa piove no qui c'è un jack salve questa è la tecnologia capito? la fa' di artemis di installa ehm circuito ci do mi serve solo il down bubù di zucca mi sono ritrovato un saccaccio anche io che non mi serve hm? bubù di zucca mi sono ritrovato nell'inventare penso ma guarda questi stronzi di jack bastardo praticamente mi applicava mi diceva oh compra c'ho potenziamenti bomba si ma voleva il triplo dei sordi che gli volevo dare io poi dice applica dei prezzi al capogiro si che gli ho chiesto lo sconto si è un po' risentito ho perso uno di reputazione con jack fai in culo eh mai alede ti fai anche l'offesa faccia di merda eh i jack sono così eh sono dei furbetti commercianti merda merda eh fanno furbi ero ero c'era una gente che gli ridassa a lui per tempo eh sta lì che venga a lui mhm ragione tanto potenziamento me l'ha dato uguale fai erici vai tratta le fesci le fesci? fai come lo facesti o lo fesci? mhm facetti mi fai trovare l'idrogeno qui si l'idrogeno il dame qui sono a posto mollusco correzzato l'ho mai trovato? no ma ma guardate errore 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 ti vedono ti vedono chi? mhm ora è capitato c'è la torna dello scienziato via e come si apre le molluscoide? bussa senti se ti apri c'è bussa perla vivente ho trovato 4000 vale che tristezza però quella si usa da qualche parte non mi ricordo per cosa una deve essere una questa una sola? ne serve non mi ricordo se è una sola o di più vabbè visto che qui c'è quelli pigli alberi si ma tanto sottacco la vitrola ma si parla che schizza indietro nel l'acqua ma si parla che schizza indietro nel l'acqua mhm dovrebbe esserci anche il sistema per andarci alla navicella non so come no si credo eh eh mi sono bloccato qui vai a me mi ha glitchato la mercantile vai è nuova guarda troia oh mi sono all'ingresso ti inverebbe che un paio in alto la mercantile no ma si fammi spenderti i soldi tanto fammi finire queste queste bacelli di giada saccaronzante vedi oh bacello pianta senziente l'ha mai trovata? si parli di si miglioramento deposito ho trovato? cosa c'è un miglioramento deposito? per il mercantile per il mercantile pesta del cazzo per il progetto per il progetto per il progetto c'è già il progetto è c'è già cari Mi ha trovato un miglioramento per la navicella Dove ci fai con la pianta senziante? La senziante? Oddio ti da la sfera di gravitini Trovata Ti da un cazzino di sfer... Dio buono! Ogni gamba ti da la sfera di gravitini Ogni pianta? No, non è pianta, ti tira su una quindicina alla ventina di tentacoli E sopra ognuno c'è... Ma non ci sono sentinelle? Piano, ora sono in fuga Il scheletto non so se lo svanco... Nooo, mi sa che vado giù Dio buono! Dio buono! Trovo il tutto per tutto ma sono messo male A posto! Mi sono messo... Mi sono sfidato in un tunnel Bravo! Murati dentro no? Murati dentro infatti Comunque ti rimangono lì sopra ronzà come Mosconi no? Eoa Tecologia ricaricata Oh! Oddio! 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 No, no! No! Non ci voglio credere! Ma sono riusciti a colpirmi anche passando da sopaterra! Ah si eh! Loro possono! Se no! Loro possono! Mamma mia, sono finito nell'acqua di buono! Se riuscissi arriva la navicela, inizia a pulicchiare l'intorno e poi pulisce il caso Vieni, non è facile! Gorda pirati! Madonna! Che sa volete? Jack, guarda! Che posto di merda! Come la mafia, oh! Che fiamma protezione! Gli ho detto no! La no ti si ammazza! Ma vai in culo! Jack ha detto si! Eh, capito! Beh! C'è più religione! Si può affidare meno di Jack! Eh, dipende che incontri! Jack ha detto! Io sono Jack affidato! Sì! Scusami! Perchè lo dici te o perchè lo ti fanno le recensioni? Eh no! Lo dice l'universo! Ah! La mia reputazione da Jack, però! Capisco! Mando pezzo! A posto! Eh, rilevato! Non vogliono che le porto via gravittimio! Deve aspettare che sparisca tutto! Ho ricercato! Un po' no! Un po' no! Ho troppo aumentato la reputazione Jack! Ammazza l'astronave! Visto! Eh, perché vuol dire che era un coso! Era... Ha ammazzato un ricercato giù da Jack! Fatta che... L'achievement minaccia! Di sotto 40 astronavi! Anch'io che lo minaccia! Ah! Ah! Nuovo Grado Jack compare... E lui cosa fa? Nel menù te lo traduce... E te lo fa diventare confronta! Perché compare! Ah! Ma perché? Ma chi glielo dice di tradurre per la salire? È assolutamente male! Beh!